La città si è spenta ma Johnny ha un tarlo in testa Compromesso o libertà? La scelta è questa Johnny sceglierà o si nasconderà Ne vale la pena se non è più in scena Johnny non lo sa Susan è stanca di sognare Il suo mondo è intumulto Vuole un uomo su cui contare Johnny fai o no? L'adulto Johnny sceglierà O si nasconderà Famiglia e lavoro o sempre solo Johnny non lo sa Michael l'ha già scelto e lui ha il sole davanti a sé Johnny di fronte a tempi bui Quindi sogno realtà La scelta qual è? Dice Susan e lei lo sa L'ambizione uccide Michael l'ha capito già da tempo ma Johnny d'ambizione vive Johnny sceglierà O si nasconderà O si nasconderà Il tempo scorre anche quando non vuoi Cosa sceglierà? Johnny sceglierà O si nasconderà Il tempo corre dai scegli chi sei Johnny non lo sa Johnny non lo sa Cosa sceglierà Cosa sceglierà Sogno realtà Johnny non lo sa Cosa sceglierà Sogno realtà Cosa sceglierà Cosa sceglierà Lui non lo sa Lui non lo sa Gianni non lo sa Grazie a tutti